Buongiorno a tutti, sono Laura Beltrami di C-Computer SPA, siamo presenti qui all'ISE 2013 e vi presentiamo le nostre novità, a partire da Explora iRead, che è il nostro chiosco interattivo con schermo 21,5 pollici, LED screen, dual touch system, infrared. Diciamo che è un prodotto ideale per i luoghi pubblici, come banche, comuni, uffici pubblici in generale. Fra le altre novità presentiamo anche Explora Vitra, che è la nostra vetrina interattiva, schermo 22 pollici, LED, è possibile anche 46 pollici, completamente personalizzabile, con all'interno il nuovo PC C10 della nuova gamma di C-Computer. 22 pollici, display trasparente. Ed ecco qui la conchiglia delle configurazioni, come potete vedere i prodotti della linea Explora possono essere configurabili con la scelta del colore della cover, in qualsiasi tipologia di pantone il cliente desideri, con complete personalizzazioni, sia di grafiche interne ma di grafiche esterne, fino ad arrivare al legno, alla possibilità di realizzare cover in legno. La personalizzazione è estrema, in quanto è possibile personalizzare anche la fascia in cotone, con il logo della propria azienda. In occasione di ISE 2013 abbiamo portato il primo prototipo di Explora Fly, è un device appartenente alla gamma Explora, come potete vedere da appendere al soffitto o a parete, è possibile appunto in due differenti formati, 40 e 46 pollici, in modalità verticale ed orizzontale. È possibile chiaramente averlo passivo o anche touchscreen. Il sistema di personalizzazione visto in precedenza è applicabile a tutta la linea di prodotti, quindi Explora Fly, Totem, iRead e Vitra.